Vigilia di campionato, no, non della Serie A in generale, ma è già iniziata, però della Juve, della Juve. Sare già iniziata tra l'altro con delle sorprese, non poche sorprese. Pareggi di Milan e Inter, io ho visto la partita del Milan, partita molto strana, quella dell'Inter invece ho visto soltanto degli spezzoni, quindi non riesco ad avere un giudizio. Boh, Milan continua a non convincermi, Fonseca ha fatto delle scelte anche un po' particolari, poi magari parleremo anche delle altre squadre quando dovremo fare il pronostico della classifica finale di campionato. Come sempre io, lo sapete, non lo faccio a mercato in corso, voglio avere le rose delle squadre di esposizione perché il mercato cambia troppo le percezioni di quelle che saranno poi le classifiche finali. Però domani si ricomincia, la Juventus scende in campo, c'è l'esordio per Tiago Motta, ha parlato di entusiasmo, era già positiva, di privilegio di giocare questa partita. Io domani sarò allo stadio, ho un'adrenalina addosso, veramente mi devo tirare delle sberle per cercare di rimanere concentrato. Prima di tutto, però, voglio dire una cosa forte su Tiago Motta, perché la percezione dopo questa prima conferenza stampa è una e una sola, e cioè che questo è un allenatore molto grigio. Non è un allenatore estremista, come poteva essere Allegri o Sarri, perché Allegri e Sarri sono stati veramente l'opposto l'uno dell'altro. La Juventus, quando ha fatto quella transizione a Sarri ed Allegri, ha cambiato tutto. Tiago Motta, anche nel modo di comunicare, mi sembra un allenatore molto grigio. Un allenatore che potrebbe mettere d'accordo sia le persone che vogliono vedere una partita giocata in un certo modo, sia le persone che vogliono vedere la Juventus arrivare a dei determinati obiettivi. Perché Tiago Motta ha parlato di prestazione e di risultato, sempre. Oggi andremo ad analizzare a conferenza stampa, ma vuole fare una buona partita e vuole arrivare al risultato. E di questo sono veramente contentissimo, perché la Juventus, oggi intesa come tifosieria, non ha necessità di divisioni ulteriori, ha necessità di ricompattarsi, ora che inizia la prima partita ufficiale di un nuovo ciclo. E quindi Tiago Motta mi è piaciuto tantissimo in questa prima conferenza stampa d'allenatore della Juventus di un pre-partita. Dopo cinque settimane si comincia. Quanta voglia c'è? Tanta. Non vediamo l'ora di competere e arrivare all'obiettivo. Fare una grande prestazione e portare il risultato che vogliamo. Ecco qua. Quello che vi dicevo prima. La prima risposta di Tiago Motta, tra l'altro, alla Juventus TV, quindi magari anche una domanda concordata, preparata. Il messaggio che ha voluto portare Tiago Motta come prima risposta è questo qui. Prestazione e risultato. Una cosa va di conseguenza a quell'altra. Con una grande prestazione arriviamo a un grande risultato. Tiago Motta non vuole giocare bene perché è divertente. E non vuole solo vincere e se ne frega di come arriva la vittoria casualmente. No, vuole una grande prestazione per portare un grande risultato. Questa è la nuova era della Juventus. E finalmente si prendono in considerazione tutte le cose che fanno parte di una partita di pallone. Si aspettava questa situazione di emergenza con pochi giocatori? E McKennie? Un caso isolato o ci saranno altri reintegri? McKennie è utile e funzionale per le nostre esigenze. Domani abbiamo 19 giocatori per la partita. Non so quanti next gem verranno aggregati a questo punto. Immagino Mancini come Vice Braovic e altri. Ne giocano 11 con 5 cambi. Stiamo bene, abbiamo fatto una buona preparazione. Questa settimana abbiamo fatto buoni allenamenti con intensità e siamo pronti per domani. Le motivazioni per i convocati, quindi riferimento ai fuori rosa? E Tiago Motta dice Per merito. Quelli che sono qui si meritano di stare con la squadra e di partecipare. Secco, dritto, diretto. Non c'è spazio per le discussioni. Questo è e di questo parliamo. È tranquillo sul tema mercato? Bella domanda di Romeo. Molto. Stiamo lavorando bene al massimo per costruire una squadra competitiva. Non poteva rispondere altrimenti, ovviamente. Però Tiago Motta ancora una volta ti dà l'impressione di sapere perfettamente cosa dire. Diretto. Senza giri di parole. Arriva dritto al punto. Ildis ha preso la 10. Sarà pressione. Tiago Motta si mette a ridere. A sorridere più che a ridere. E dice responsabilità. Cioè risponde veramente dritto. A voglia? Tanta. McKennie? Utile e funzionale. Le motivazioni? Il merito. E tranquillo? Molto. La dice Ildis. Responsabilità. Una parola sempre per descrivere la domanda. La risposta parte sempre da una parola. Poi viene articolata. Porta un numero storico per diverse ragioni. È forte e con grande qualità. Soprattutto una grande cultura per il lavoro che trasmette bene agli altri. Anche se è giovane. È cresciuto molto. Tiago Motta e Ildis. Spero che possa inventare veramente un binomio importante. Perché Ildis è il numero 10 del Juventus Tiago Motta. E Tiago Motta e Ildis dovrà vedere un giocatore essenziale per la sua Juventus. Dopo i risultati ieri di Inter e Milan. Viene da sé che nessuna partita è scontata. E Tiago Motta giustamente risponde. Nella vita e nel calcio non ci entri scontato. Bisogna meritarsene le cose. Il Como è salito dalla B. Significa aver vinto tante partite e con entusiasmo. Noi abbiamo grande rispetto come di tutte. Ma daremo il massimo per arrivare al risultato che vogliamo. Si parla tanto di risultati e tanto di prestazioni. Questa conferenza stampa. Tanti nuovi misteri in stagione. Fonseca ha parlato di Scudetto. Conte di anno zero e di ricostruzione. Lei? Noi dobbiamo fare il massimo domani. Competere con il Como e ottenere il risultato. È il primo passo di una stagione che sarà così. Passo dopo passo. Bravo. Grazie. Quando Tiago Motta quest'estate si è presentato dicendo niente alibi. Sono questi. Non parliamo di obiettivi. Lasciamoli stare. Non lamentiamoci per il mercato o per determinate situazioni. Lavoriamo. Ritorniamo alla cultura del lavoro. La cultura del lavoro ti fa fare delle prestazioni che ti portano dei risultati. Questa è la nuova evento di Stiago Motta. Funzionerà. Queste cose succederanno. Possiamo soltanto sederci, sperare e aspettare. Però sono sicuramente dei messaggi positivi questo dal punto di vista comunicativo. Bravo. Bravo mister. Lei e Fabregas siete stati allenatori in campo e avete giocato nel Barcellona. Questa cosa influenza il tecnico. E Tiago Motta dice Il Como è una squadra che ha sempre giocato a viso aperto anche in Serie B. Sono una buona squadra con giocatori di esperienza come Pepe Reina, Moreno, Belotti. Noi li affronteremo al massimo per portare il vantaggio dalla nostra parte. È sorpreso da UEA. Cosa può migliorare? Può migliorare in tutto. Ma ha predisposizione. No, non sono sorpreso, l'avevo già conosciuto da giovane e aveva potenzialità. Oggi la puoi esprimere tutta e ci sarà di grande aiuto. È una Juve imperfetta? Si aspetta qualcosa dal mercato? Come ho detto, stiamo lavorando al massimo e bene per una squadra competitiva. Secco, diretto. Io ti ho già spiegato la storia. È inutile che tu vuoi sapere di più. Questa è il massimo dell'informazione che riuscirei a ottenere da me. Siamo concentrati su fare una grande partita con il Como. Poi vedremo. È la cosa più importante. E qui c'è il capolavoro della conferenza stampa di Tiago Motta. Perché inizia a bacchettare i giornalisti. E gli dice Anche se a voi non vi piace troppo parlare della partita. Tiago Motta non cerca di trovare il... Non lo so, la simpatia. Non cerca di trovare questa linea per discuterne insieme. Tiago Motta ha le sue idee, le sue visioni. E sa che oggi, ma mica perché è colpa dei giornalisti che sono lì per la Juventus, sa che la stampa tira più verso le cose extracampo che per il campo. Cioè ormai della partita si parla sempre meno, sempre pochissimo. A volte le partite vengono analizzate non dal punto di vista sportivo. Tantissime volte. Negli ultimi anni, bene o male, tutte quelle che hanno vinto non hanno meritato e hanno rubato. E quelle che hanno perso hanno pianto. È successo nei nove anni che abbiamo vinto noi. È successo con le altre. Il campo da calcio viene sempre lasciato un po' in secondo piano. Tiago Motta invece è l'allenatore. Sa che queste cose sono importanti e sono essenziali. E mi è piaciuto tantissimo, tantissimo in questa sorta di ripresa. Proprio anche il tono in cui l'ha detto. Andatevi a recuperare la clip perché stava proprio bacchettando il giornalista. Siamo qui a parlare di mercato? No, siamo qui a parlare di Juventus Como. Questo è il messaggio che sta passando Tiago Motta. C'è una partita da giocare. Il mercato poi vedremo. Ve l'ho già detto. Sono contento. Faremo una squadra forte. Ora parliamo della partita perché è Juventus Como che fa ottenere i tre punti. Bravo mister. Domani giochiamo una partita. Siamo concentrati lì per giocare bene e portare il risultato. È quello che vi dicevo all'inizio del video. Tiago Motta ragiona sulla prestazione e sul risultato. Il resto lo lascia da parte. Non c'è tempo da dedicare a cose che vanno a togliere energie. Le energie devono essere messe tutte sulla partita. È il debutto in casa che a prestazioni pensa di ottenere dalla sua squadra. È stata una buona preparazione e una buona settimana di lavoro. Domani è la prima in casa. Ci sarà grande entusiasmo e felicità. Mi sento un privilegiato come tutto il gruppo. Però ci meritiamo il momento. E questa energia la metteremo in campo. La nostra idea è di fare sempre una buona prestazione per arrivare al risultato. E dai, e dai, e dai, e dai. Stai iniziando a descrivere, stai iniziando a costruire quello che sarà la linea comunicativa di Tiago Motta. Quella che è la linea comunicativa di Tiago Motta è quella che, secondo me, è la scelta migliore. Perché le due cose sono sempre correlate. Il gioco efficace, giocare in maniera efficace, fare una partita fatta bene e poi ti porta al risultato. È sempre stato così e sempre sarà così. C'è stato un cambio di posizione su Chiesa? No. Ci ho parlato internamente. E questa è una grande dimostrazione di rispetto verso i giocatori. Trasparenza e chiarezza. Una volta dritto, diretto, preciso. Non è cambiato niente per Chiesa. È fuori. Ci ho parlato in privato. E questo è un segno di rispetto. Gli ho detto le cose in faccia. Attenzione. Il momento di difficoltà di Vlaovic nel precampionato. Come lo vede? Tiago Motta dice Lo vedo bene. Lavora bene, aiuta i compagni. Noi ce lo teniamo stretto. Può dare una grande mano. È un grande giocatore. E come tutti i grandi giocatori, ha bisogno della squadra. Questo è un concetto che sto continuando ad evidenziarvi tantissimo, soprattutto nei post partita delle amichevoli. Oggi noi basiamo il presente sul gruppo. Abbiamo una grande energia per portare a casa quello che vogliamo noi. Tutto il resto non conta. Non portatemi fuori dal sentiero. Io voglio parlarvi di queste cose qui. Il resto ottenetevelo voi. Fatevi i vostri articoli. Parlate di tutto quello che volete. Io ho la testa al como. Questo è Tiago Motta. Quando l'eventus passò da Allegri a Sarri, si trovò una resistenza al cambiamento. E soprattutto perché McKennie è stato reintegrato in Rosa solo adesso, se è utile, eccetera, eccetera. Su McKennie ho già risposto. E non aspettatevi che verrò a dire, vi ho già risposto. Trovate la risposta poco più in alto. Tornate indietro nel video, nella conferenza stampa, andatevele ad ascoltare. Questo è un po' quello che dice Tiago Motta. Nessuna difficoltà. È calcio. Ognuno sa il ruolo che deve fare dentro il campo anche con interscambi. Stiamo bene. Abbiamo lavorato bene e preparato bene la partita. Daremo il massimo per il bene della squadra. Squadra, squadra, squadra. Gruppo, concetti. Importanti. Soprattutto quando inizia il nuovo progetto. Miretti, in che condizione è? E soprattutto uscirà, di Miretti si sta parlando tantissimo di Genoa, con prestito, dopo il reintegro di McKennie. Quindi vedremo se succederà. Però Tiago Motta taglia corte, dice domani non sarà con noi. Sta facendo differenziato. Poi di Miretti parleremo meglio quando rientrerà in gruppo. Ragazzi, questa era la conferenza stampa. Io vi chiedo un mi piace di supporto. Lasciatelo qui sotto. Scrivete un commento. Fatemi sapere come avete vissuto questa prima conferenza stampa pre-partita di Tiago Motta. Secondo me è stata un'ottima preparazione a quello che sarà il Ventuscomo. E ora ci manca soltanto da andare in campo e portare a casa i tre punti. Finalmente torna il pallone che rotola sul prato dell'Allianz Stadium. A domani.